Spero non vi penchiate di questo applauso alla fine, spero che sia più caloroso ancora, ma rischiate diciamo, dandomi questa fiducia. Buongiorno a tutti intanto, è un piacere essere qui, con Benedetta e insomma la cara amica, è parecchi anni che ho questa consuetudine di venire invitato a parlare di cose complicate al Festival della Mente che d'altra parte tratta di cose complicate. E stamani non faremo eccezione, quindi siete a vostro agio, siete tranquilli, vedo tutti, insomma faremo un viaggio anche con qualche turbolenza, mettiamola così. Il tema del Festival è la meraviglia e questa cosa mi è piaciuto molto perché ho già citato in alcune occasioni il fascino di questa parola, il taumazein, la meraviglia da cui nasce la filosofia, Aristotele, molte frasi famose. Però c'è una cosa che mi ha sempre colpito, che nel termine greco, quello che noi indichiamo come meraviglia, nasconde un lato scuro, c'è un lato che si chiama paura, angoscia, tant'è vero che il termine viene usato anche nell'Iliade per descrivere Polifemo, il ciclope, vedete il Polifemo, forza della natura, i vulcani, c'è nell'atteggiamento dell'umano verso la potenza della natura la meraviglia e anche l'angoscia. Le due cose tendiamo a separarle ed è un male che si separino perché questo elemento di paura e di angoscia copiato alla meraviglia lo considero decisivo sia per lo sviluppo delle teorie filosofiche che poi diventeranno religioni, diventeranno scienza e così via, ma anche oggi, ancora oggi, ancora oggi c'è questo elemento, ancora oggi quando vediamo una manifestazione della potenza della natura insieme ad un uragano, un vulcano, un'eruzione vulcanica, c'è questo elemento di angoscia, di angoscia primordiale. Ritorneremo su questo quando parleremo della materia, quindi l'argomento di questa chiacchierata, che parte da un elemento antico. Io sono uno scienziato abituato a parlare su dati di fatto, a discutere concetti provati da infinite verifiche sperimentali, però ogni tanto anch'io sogno suggestioni e una di queste suggestioni è immagino i nostri antenati più lontani che realizzano in tempi non storici, quindi stiamo parlando di migliaia, forse decine di migliaia di anni fa, realizzano questo elemento di base della condizione umana, cioè che noi siamo qui in questo scenario naturale meraviglioso, i tramonti, la luna, le stelle, il sole e tutto sembra ripetersi indefinitamente, tutto sembra avere una cadenza eterna, il sole che si ripresenta ogni mattina, la luna presenta la sua faccia splendente ogni quattro settimane, le stagioni, la natura muore, rinasce nel ritmo delle stagioni, tutto eterno ed immutabile tranne noi, tranne noi, vedete? Questa consapevolezza della intrinseca fragilità degli esseri umani è primigenia, è primordiale, affonda veramente, non sapremo mai i primi che hanno speculato su questo, hanno preso coscienza di questo, hanno discusso di questo, ma è ovvio che il fatto, immaginate un secondo la vita di qualche nostro lontano progenitore che poteva spezzarsi in un attimo, per una belva feroce, una caduta, una malattia sconosciuta e di colpo un corpo robusto e in piena vita veniva ridotto a un insieme di membra scomposte. Questa consapevolezza della fragilità e dello scacco e della vergogna anche, ma come? In questo scenario meraviglioso in cui tutto è eterno e immutabile, gli unici che sono fragili e destinati a deperire siamo noi. Vedete l'inizio della discussione sulla materia, mi piace immaginarlo lì. Possibile che la nostra materia, la materia di cui siamo fatti noi, sia diversa dalla materia di cui sono fatte le montagne, i fiumi, il sole, le stelle, la luna, la terra, tutte le cose che poi non a caso sono state divinizzate. Vedete, la discussione sulla materia ci riguarda, ci riguarda da vicino perché anche noi siamo fatti di materia e siamo fatti di una materia fragile, di una materia che si decompone, deperisce, si sfascia nel meccanismo della morte. Quindi la discussione filosofica e poi scientifica sulla materia nasce con questa ambiguità, perché parliamo del mondo materiale come se la cosa non ci riguardasse, ma anche noi facciamo parte del mondo materiale, che noi siamo fatti di una forma materiale. La parola materia nell'origine etimologica latina risuona con mater, quindi ha idea, ricostruisce, sviluppa il concetto dell'origine, cioè la questione, lo strumento, il processo che dà origine alle strutture materiali. In greco ile è diversa, ile ha a che fare con il legno, con la selva e infatti nelle lingue in spagnolo, neolatine o portoghese, madeira, madeira è ancora legno, no? E in realtà la materia, la madre latina, in realtà è la madre degli alberi, quella parte più soffice e più produttiva di una pianta, no? Quella da cui nascono i polloni, nascono le nuove, le nuove vegetazioni, no? Quindi vedete c'è l'idea di un'origine materiale, no? Che ha a che fare con questi strumenti, forse l'elemento più flessibile, il legno probabilmente, sicuramente è il primo strumento materiale utilizzato dagli uomini, ben prima forse di utilizzare le pietre che richiedono una tecnologia complicata, gli strumenti di legno probabilmente sono stati i primi strumenti che hanno usato gli omini, i nostri antenati per sopravvivere, no? Hanno trovato lance appuntite dal fuoco utilizzate da Neandertal, quindi, ma purtroppo il legno deperisce rapidamente, quindi la stragrande maggioranza dei reperti preistorici sono reperti vitici, diciamo. Però tenete presente questo, materia, legno, l'origine, no? Di questo elemento primigenio da cui frutta, da cui nasce una struttura vegetale, una struttura animale, una struttura umana. E siamo qui a discutere, a distanza di 2500 anni, di questa questione che ha attraversato l'umanità, l'umanità intera. Perché? Perché c'era da fare i conti con quell'angoscia, vedete, ritorno alla questione dell'angoscia, l'angoscia della fine, l'angoscia della morte, no? Che non puoi mai staccare dal stupore e dalla meraviglia, no? Più ti stupisci e ti meravigli della bellezza del mondo in cui vivi e più qualcosa dentro di te ti dice, attenzione, no? Tu non avrai quella vita eterna e immutabile che il mondo materiale ti presenta. Ecco lo scacco, ecco l'inizio, no? L'inizio della riflessione. Ricordo che fin dall'inizio, anche qui si va nella riflessione più antica, anche qui non sapremo mai l'origine, ma in qualche modo si può riconoscere questo trattamento speciale per la materia di cui siamo fatti nel culto dei cadaveri, no? Che è una pratica antichissima. Il fatto che ci sia una forma di rispetto verso la forma materiale, il corpo, il cadavere, è veramente sepolto nella notte dei tempi, no? Le prime inumazioni risalgono, provate, risalgono addirittura a Neandertal, prima ancora dei Sapiens, no? Cioè che la materia di cui siamo fatti, che è deperibile e fragile e che produce lo sfacelo della morte, ha diritto a una forma di rispetto particolare, è una pratica ancestrale, no? Quindi i morti seppelliti, non lasciati alle belve, il mito di Priamo che va da Achille, la bestia, e per ora la causa del rispetto del cadavere, la consegna del cadavere di Ettore, no? Lo scambio di cadaveri oggi nella guerra fra Russia e Ucraini, c'è la pausa, ci si ferma e si scambiano i corpi dei commilitoni, no? Per rispetto verso il corpo umano del caduto, no? Cioè tutto questo cosa ci dice? Ci dice che da tempo immemorabile c'è questa tabù, tabù, no? Il tabù di considerare la materia di cui siamo fatti qualcosa di nobile, qualcosa di importante, qualcosa di speciale, no? Una materia speciale, sì, deperibile e che si distrugge, ma che ha qualcosa di speciale. Vedete, tutto ci fa pensare che questo è il nodo, no? Quel nodo in cui si mescolano insieme meraviglia e angoscia, no? Il nodo in cui cerchi di costruire una teoria, una visione del mondo, una concezione del mondo che ti permette di sopravvivere a questa angoscia, che ti permette di superare questa angoscia. Da qui nascono le prime filosofie, le prime religioni, no? Nascono come una specie di ribellione. Ecco, vediamola così. Cioè gli umani si ribellano semplicemente all'idea che la loro esistenza materiale possa finire con la loro morte, no? Non è possibile, non è immaginabile che tutto di noi finisca nel momento in cui avviene, no? Il trapasso. E ci sono due forme diverse, apparentemente diverse, in realtà molto diverse, ma che hanno lo stesso scopo. Cioè fin dall'inizio ci sono, stiamo parlando dei primi sapienti greci, quindi 2500 anni fa, ci sono due approcci completamente diversi, no? Il primo è quello, diciamo, chiamato idealistico, animistico, spiritualistico, ha preso varie forme, è diventato spesso religione. Cioè l'idea che non siamo fatti solo del nostro corpo materiale, c'è una sostanza materiale dentro di noi, nobile, che sopravvive alla morte, no? Questa sostanza è il soffio biblico, è l'anima, è l'idea, ha preso vari nomi, lo spirito, ma è qualcosa che ci abita e che ci sopravvive. Una sostanza nobile che partecipa dell'eternità delle grandi strutture materiali eterne e immutabili, no? Vedete, questo è il primo grande filone. Ma c'è un altro filone, quello di cui parleremo più diffusamente oggi, che è il filone cosiddetto materialistico, no? Materialistico, quindi i primi atomisti, quindi Democrito di Abdera, siamo nel 450 avanti Cristo, che sviluppa apparentemente una teoria completamente diversa, no? Ma in realtà che ha questo punto in comune. La teoria dice siamo fatti di sostanze materiali indivisibili, no? Noi, i nostri corpi, i pianeti, le stelle, la terra, l'acqua, tutto, è fatto di questi elementi indivisibili. Io rimango sempre incantato dalla maniera con cui riescono questi primi pensatori ad arrivare a questo concetto, no? Stiamo parlando di pensatori che utilizzano la logica, non utilizzano i dati sperimentali, no? Non c'è una scienza sperimentale di là da venire. Su base puramente logica arrivano all'idea dell'atomo, no? Cioè dell'indivisibile. È meraviglioso, qui è veramente meraviglioso, cioè come arriva Democrito all'atomo? Su base filosofica, no? Prendo un sasso, un oggetto qualunque, è un elemento dell'essere, no? Dell'essere, parmenide. L'essere è lo sminuzzo, lo taglio a pezzettini, lo frammento, no? E io potrei andare avanti all'infinito, ma se andassi avanti all'infinito l'essere diventerebbe non essere. Lo trovo geniale, no? Quindi non può essere, l'essere non può diventare il non essere, quindi io non posso sminuzzare all'infinito. Ci deve essere un limite, vedete? Cioè si arriva all'indivisibile su base puramente logica, filosofica, potentissima. È chiaro che siccome l'essere non può diventare il non essere, perché sarebbe contraddittorio, ci deve essere un limite. In questa sminuzzare, in pezzetti sempre più piccoli, qualunque sostanza materiale. Eccoli qua, gli atomi, no? Vengono fuori gli atomi. Ma cosa sono gli atomi che compongono le strutture materiali? Tutte, compreso noi. Sono elementi eterni e immutabili, vedete? Ritorna quel pregiudizio di eternità e di mutabilità da cui era nata l'angoscia, la paura, no? Si è trovato, si è ancorata la nostra identità a qualcosa di eterno ed immutabile. Sì, dice Democrito, con la morte si disgrega la struttura materiale. Democrito non nega l'anima, no? L'anima è fatta di atomi speciali, di atomi molto leggeri, perfetti. Si disgrega l'anima perché gli atomi dell'anima si disgregano. Ma questi atomi disgregati sopravvivono e si riaggregheranno in varie forme. Vedete la consolazione, vedete la coperta che ci consola, no? La teoria che ci libera dall'angoscia. Non devi aver paura della morte perché quello è un passaggio, come un passaggio è stata la nascita, si sono aggregati gli atomi per costruire un embrione, poi un corpo e poi un individuo, così si disgregheranno e ci sarà un lungo ciclo, una lunga catena di riaggregazione. Vedete il tratto comune, no? Il tratto comune, cioè il tratto che si ricerca una base materiale, eterna e immutabile a cui partecipiamo, cioè questo destino è comune a tutti. Quindi vedete, abbiamo qualcosa che ci consola, che ci unisce, non a caso diciamo dalle forme di... qui non c'è tempo stamattina di andare attraverso tutto questo, ma il materialismo svilupperà con Epicuro una filosofia in cui si vince la paura della morte, no? Epicuro ha avuto una brutta fama, oggi si dice Epicureo quando uno dice non mi interessa di nulla, mi dedico ai piaceri della vita, in realtà era un filosofo che predicava la moderazione, cioè utilizzare i piaceri della vita, ma con moderazione. Era contrario proprio alle... c'erano i Cirenai, c'erano altri filosofi che volevano invece, diciamo, propagandavano il carpe diem, quello che si dice abitualmente, no? Con il linguaggio comune, cioè l'utilizzo di tutti i piaceri possibili a prescindere da ogni altra considerazione. lui no, lui predicava, diciamo, ti puoi liberare della morte con la consapevolezza, con la coscienza, no? Quando tu capisci, in questo è geniale Epicuro, no? Perché lui sviluppa il pensiero atomistico, ne fa una filosofia tutto tondo, una concezione del mondo che infatti non a caso ebbe un seguito enorme nel mondo greco, nel mondo romano, cioè tu capisci il meccanismo materiale che governa il tuo corpo e l'intero universo. Quindi in questo è modernissimo, no? Le stesse leggi che governano la nostra esistenza governano i corpi materiali, sono le stesse leggi, no? E tu capisci queste leggi, tutto è fatto di atomi, atomi di diverse forme, di diverse aggregazioni, che si aggregano e si disgregano, no? Tutto è fatto di due elementi essenzialmente, atomi e vuoto, no? Perché gli atomi non possono muoversi se non nel vuoto, quindi vedete, ha subito una, anche qui su base logica, arriva subito a due elementi fondamentali. Atomi e vuoto costituiscono il tutto, gli atomi si aggregano e formano le stelle, i pianeti, gli esseri umani, le piante e gli animali. Quando questi muoiono, si disgregano e si formano altre aggregazioni. Quando tu raggiungi consapevolezza di questo, che sei parte di un ciclo di generazione infinito, non hai più paura di morire. Ecco, ti liberi dalla paura di morire e puoi godere dell'esistenza, del rapporto con i tuoi simili, dei piaceri della vita, in pienezza, diciamo. Non a caso la scuola di Epicuro è un po' la prima forma, la scuola del giardino, la prima forma di scuola democratica. Alla scuola di Epicuro venivano ammessi gli schiavi, per esempio, le etere, le prostitute, diciamo, d'alto bordo del mondo greco. Quindi donne e schiavi che erano escluse dalla democrazia greca, erano in realtà ammesse nella scuola. Un grande scandalo dei platonici, infatti non a caso diciamo, Platone non vuole mai nominare gli atomisti, bandiva i libri degli atomisti dalla biblioteca, insomma c'era proprio un conflitto feroce. Quindi vedete, i due filoni sono già tracciati, già dell'antichità, ma hanno questo tratto in comune, no? Si cerca qualche cosa di eterno ed immutabile. Che tu lo cerchi in una sostanza immateriale, un soffio vitale, un'anima, o che tu lo cerchi nella struttura interna dei corpi basata su elementi infinitesimi, ma anch'essi eterni ed immutabili, cambia poco, a mio modo di vedere. C'è questa stessa esigenza. Nell'atomismo antico ci sono dei punti deboli, qui bisogna essere onesti, cioè c'è una certa tendenza che io vedo nei moderni di, siccome, insomma lo sapete tutti, le teorie atomiche sono state dimostrate scientificamente, quindi insomma ci arriveremo, discuteremo. Oggi nessuno più discute che la materia è fatta di atomi e di particelle elementari che si aggregano fra di loro. Ma c'è una certa tendenza, con gli occhi dei moderni, a vedere il pensiero antico come precursore dell'indagine moderna, che è vero, c'è sicuramente degli elementi di connessione. Ma ci sono delle differenze, ci sono delle differenze enormi che non a caso vennero evidenziate in maniera molto chiara da Aristotele, che conosceva molto bene le tesi degli atomisti e le criticava, e le criticava anche a buon ragione, le criticava anche con delle critiche giuste, corrette, per esempio criticava il meccanismo dell'aggregazione, no? Cioè come fanno gli atomi ad aggregarsi? Come fa in un universo fatto di atomi e vuoto a nascere un bambino? L'argomento era semplice ed era chiaro che gli atomisti non avevano concepito lo strumento con cui gli atomi potevano aggregarsi, no? Cioè avevano visto con nettezza l'organizzazione, ma non avevano visto l'interazione, no? Quella che modernamente chiamiamo le forze, le interazioni che permettono agli atomi di costruire strutture permanenti. Quindi c'era un punto debole dell'atomismo, è vero che poi con il clinamen, con la declinazione diciamo si cercò in qualche modo di sopperire a questo, cioè l'idea che c'era questa pioggia incessante di atomi che ogni tanto scartavano, no? Questo è quello che diciamo verrà fuori con Epicuro, Lucrezio diciamo, lo cantò in versi, cioè questa idea che non poteva una pioggia di atomi nel vuoto produrre strutture materiali, ci doveva essere un meccanismo casuale per cui avvenivano collisioni, avvenivano aggregazioni, ma era un po' generico, un po' diciamo rozzo, grossolano, cioè l'idea che potesse nascere attraverso questo meccanismo casuale diciamo, no? Un fiore, una farfalla, un bambino e cose di questo tipo. Quindi diciamo gli idealisti o i filosofi contrari all'atomismo in realtà identificavano dei punti di debolezza vera, no? Nelle teorie dell'epoca. Di fatto però quello che successe è che inizialmente ci fu un enorme successo delle teorie atomistiche, Epicuro in particolare, Lucrezio, che diciamo vennero adottate dal potere, da imperatori, c'erano cattedre di epicureismo ad Atene, c'erano imperatori romani che erano ammiratori di Epicuro, di Lucrezio. Ci fu un periodo in cui diciamo questa era la filosofia dominante delle classi più colte diciamo dell'impero romano e del mondo greco. Dopodiché, in particolare collegata al successo della religione cattolica, cristiana prima e cattolica poi, con l'adozione del cristianesimo come religione di stato, lentamente, inesorabilmente scoppiavano le polemiche, primi pensatori molto aggressivi verso l'atomismo e verso il materialismo cominciarono ad adottare un atteggiamento diciamo di critica feroce e lentamente, inesorabilmente l'epicureismo e con esso Lucrezio e con esso il materialismo venne messo da parte, venne bandito al punto che venne dimenticato. Qui sarebbe una storia anch'essa da raccontare, non ho tempo di raccontarla perché il tempo corre, come fu riscoperto nel Quattrocento grazie a Poggio Bracciolini, come questa scoperta fu casuale legata al processo di un antipapa, se non ci fosse stato questo processo probabilmente non avremmo avuto il dererum natura, l'avremmo avuto molto dopo, come il dererum natura di Lucrezio che è l'epicureismo tradotto in versi meravigliosi diventò subito un poema conosciuto da tutte le eliti intellettuali dell'epoca e ammirato da cardinali e addirittura papi al punto da non venire messo all'indice se non secoli dopo. Questa è una delle cose più stupefacenti. Era scritto talmente bene, era talmente bello che pur essendo materialismo descritto in versi, nessuno aveva il coraggio di bandirlo, lo fecero quando era troppo tardi, quando ormai era conosciuto in tutto il mondo e da quella riscoperta il rinascimento, Botticelli, il poliziano e poi la scienza, Galilei, Newton, qui non posso andare nei dettagli se no non arriviamo al punto, quindi vi consiglio di leggere il libro su queste parti. È l'inizio con il 600, con Galilei, è l'inizio del metodo scientifico moderno. In qualche maniera riscoprendo gli atomisti e riscoprendo il materialismo, Galilei per primo e poi Newton, riscoprono il filone che meglio si adatta, si confà, che è più coerente con quello che stanno facendo, con la scienza sperimentale. Loro scoprono, facendo esperimenti, metodo scientifico, la cosa più importante che Galilei ha fatto è quello, ha inventato il metodo scientifico. Questa è una cosa che non viene mai apprezzata abbastanza. non c'è disciplina al mondo che a 400 anni di distanza utilizzi ancora lo stesso metodo che usavano gli scienziati del 600. Pensate alla medicina, la musica, l'architettura, l'ingegneria, qualunque cosa. Gli ingegneri usano delle tecniche che non hanno niente a che fare con quello che facevano i mastri del 600. I medici non se ne parla. No, noi no. Noi scienziati seguiamo Galileo Galilei. Noi usiamo esattamente lo stesso metodo. Facciamo delle congetture che sono consistenti con le osservazioni, progettiamo degli esperimenti. Se gli esperimenti confermano le congetture non vuol dire che le congetture sono giuste. Attenzione. Vuol dire che non è ancora inventato uno strumento per cancellare la congettura. Può darsi che nell'esperimento successivo il risultato sia negativo e quella congettura la devi abbandonare. Ma fino all'esperimento successivo la puoi tenere. La puoi considerare una provvisoria verità. Questo fatto che la scienza non cerca più la verità ma cerca di falsificare la verità. Altro che Popper. Galileo aveva già fatto tutto. È il metodo scientifico. Quello che ha consentito alla scienza di progredire. Perché la scienza si è concentrata a analizzare, a scandagliare quegli angoli nei quali si può trovare la falsificazione delle teorie fino a quel momento considerate valide. Ed è questo che ha portato la scienza al progresso enorme che c'è stato in questi ultimi secoli. Cercare negli angoli più stravaganti le prove che le teorie considerate fino a quel momento valide in realtà devono essere modificate. È uno strumento potentissimo, modernissimo che tuttora usiamo. Torniamo a bomba. Con lo sviluppo del progresso scientifico è il trionfo dell'atomismo. Nel senso che si passa ben presto alla tavola periodica degli elementi. Qui devo correre. Si vede che l'unica spiegazione con i progressi della chimica che si fanno nel Settecento, nell'Ottocento, l'unica spiegazione plausibile per spiegare queste reazioni complicate fra i vari elementi è immaginare che ci siano dei costituenti elementari che producono queste diverse reazioni. E tutto sembra concordare verso un gran finale con la fanfara impressionante alla fine dell'Ottocento quando finalmente si riescono, fra virgolette, a vedere gli atomi. Atomi che non si possono vedere direttamente, sono troppo piccoli, ma con gli esperimenti di Rathford essenzialmente si riesce a immaginare un esperimento che ci permette di scandagliare la struttura degli atomi e di vedere cosa c'è dentro gli atomi. A quel punto la struttura atomica è considerata da tutti l'unica spiegazione possibile di tutte le osservazioni, ma vedete, proprio in quel momento comincia la crisi. Vedete il paradosso della scienza, nel momento in cui nessuno più obietta che tutto è fatto di atomi, fatto di atomi e vuoto, esattamente come dicevano gli atomisti primordiali, ecco che di colpo nasce la crisi. Il momento della massima euforia è il momento in cui si precipita immediatamente nell'abisso. E perché si precipita nell'abisso? Anzitutto perché Rathford dimostra che l'atomo non è atomo, cioè l'atomo, l'indivisibile, contiene degli elettroni. Rathford dimostra che l'atomo, le cui dimensioni erano abbastanza conosciute, è in realtà fatto di una parte interna positiva, molto piccola, il nucleo, intorno a cui ruotano delle altre particelle molto leggere che sono gli elettroni. Vedete? Quindi se nell'atomo c'è qualcosa vuol dire che non è indivisibile. Vedete? E da lì, quello è l'inizio di una crisi che porterà fino a noi, perché si scoprirà che il nucleo è fatto di protoni e di neutroni e che neanche i protoni e i neutroni sono indivisibili, perché dentro protoni e i neutroni ci sono quark e gluoni che li tengono assieme. Vedete? È l'inizio della fisica moderna, della fisica del Novecento, che ci porterà al modello standard delle particelle elementari. Oggi noi sappiamo, diciamo, di cosa è fatta la materia ordinaria, no? È fatta di queste particelle che possiamo descrivere, per le quali abbiamo una teoria, per le quali abbiamo trovato le forze che le tengono assieme, no? C'è una forza comune a tutti, che è la forza di gravità, che tiene assieme la materia su vasta scala, c'è la forza elettromagnetica, che tiene assieme le particelle dotate di carica, c'è la forza forte, che tiene assieme le particelle, diciamo, all'interno dei protoni, all'interno dei nuclei, c'è una forza debole che produce decadimenti. Abbiamo una descrizione non solo delle particelle, chiamiamole i moderni atomi, quelle che cercavano gli antichi atomisti, ma anche delle forze che le possono aggregare o disgregare, no? Questo sembrerebbe essere il trionfo dell'atomismo tradizionale. In realtà non è così, no? In realtà nel momento in cui possiamo descrivere la materia delle ali di una farfalla o di una grande stella, in quel momento tocchiamo la crisi, tocchiamo la crisi, no? E coincide proprio con quello che si scopre all'inizio del Novecento, cioè da lì in poi, no? Il trionfo del materialismo scientifico, il fatto che finalmente si è dimostrato che tutto, no? Le strutture materiali che compongono i nostri corpi, le strutture materiali che compongono montagne, fiumi, pianeti e stelle, rispondono alle stesse leggi, no? Sembrerebbe essere, beh, abbiamo chiuso il capitolo, abbiamo finito la discussione. In realtà il capitolo si riapre e si riapre in una maniera del tutto inaspettata, del tutto inaspettata. Perché si riapre? Si riapre perché nel corso del Novecento si scoprono cose che lasciano gli stessi autori di queste cose a bocca aperta, no? Per esempio, il pregiudizio che la materia sia eterna e immutabile, cioè che i costituenti elementari della materia, no? Noi no, i corpi no, ma quark, elettroni, possono essere eterni, no? E abbiano queste loro caratteristiche da sempre e per sempre, questo pregiudizio cade, no? Cade perché si scopre che la materia non è sempre esistita. Attenzione, quando si scopre questa cosa, e siamo nei primi decenni del Novecento, questa cosa si scopre con una soluzione dell'equazione di Einstein, no? Quindi Einstein che scrive la relatività generale, scrive questa equazione meravigliosa in cui massa energia, energia, per la relatività sono la stessa cosa, spazio-tempo, per la relatività sono la stessa cosa, sono in relazione fra loro e massa-energia curva lo spazio-tempo, questa è la relatività generale. E lui ha ancora il pregiudizio aristotelico, o se volete atomistico, di un universo eterna e immutabile, dice sì, ci sono i componenti elementari della materia, sono gli elettroni, ma sono sempre esistiti, sì, ci sono le galassie, ci sono le stelle, ma sono sempre esistite, no? Quando gli fanno notare che dalle sue equazioni può venire fuori una soluzione dipendente dal tempo, glielo fa notare un giovane fisico, un prete cattolico, Georges Lemaitre, lui rimane scandalizzato, non ci può credere, no? Cosa vuol dire dipendente dal tempo? Vuol dire che c'era un tempo in cui non c'era l'universo, che l'universo è nato, che la materia non è sempre esistita. Era talmente radicato il pregiudizio aristotelico a distanza di 2500 anni, in Albert Einstein, che lui si rifiutava di accettare le conclusioni di Lemaitre. E fu solo quando Hubble, un astronomo statunitense, vide con le sue osservazioni che lo spazio-tempo si espandeva, no? Quindi era facile a quel punto fare, girare il film al contrario, immaginare che quell'espansione veniva in realtà da un punto primigenio da cui tutto era nato, il Big Bang. Ci volevano decenni prima di dimostrare questa cosa, ma questo vi fa capire quanto era forte il pregiudizio di una materia eterna e immutabile. Sì, fatta di componenti elementari, ma perfetti fin dall'origine, che non hanno subito metamorfosi, non hanno subito trasformazioni, no? E si aggregano e si disgregano da tempo immemorabile e così continueranno per tempo immemorabile. Vedete? Quel pregiudizio che ci permette di salvarci dall'angoscia primordiale. È ancora lì, è ancora lì sotto la scienza contemporanea, no? Ma la scienza contemporanea ti dice no, dimenticalo, no? Anche l'universo materiale ha avuto un inizio e probabilmente avrà una fine, no? Tu non immaginare di aver trovato una sostanza materiale indistruttibile, primigenia, ti ha permesso attraverso aggregazioni successive di produrre... Non è così, non è andata così. La cosa è continuata in realtà nella seconda metà del Novecento, ha preso aspetti ancora più affascinanti e per certi versi meravigliosi, per altri versi angoscianti, se volete, nel senso che si è scoperto, per esempio, cercando l'origine dell'universo. Quindi l'universo è nato, ma da cosa è nato, no? Domanda subito dopo, che si pongono i filici immediatamente dopo, da cosa è nato l'universo, no? Abbiamo girato intorno a questa domanda per parecchi decenni e non si capiva da dove poteva nascere questo Big Bang, no? Perché se per produrre un universo ci vuole un'enorme quantità di energia, perché l'universo è una cosa gigantesca, diciamo, da dove veniva questa energia, no? Quindi si girava un po' a vuoto, no? Negli anni 50, 60 e 70, fino a che si è potuto fare misure di precisione delle proprietà dell'universo attuale e si è scoperto una cosa che ha lasciato ancora tutti a bocca aperta, cioè che l'energia totale dell'universo è zero. Si è scoperta una cosa che nessuno aveva immaginato, nessuno scrittore di fantascienza, nessun artista, nessuno scienziato aveva mai immaginato che questa enorme struttura materiale in cui ci sono 200 miliardi di galassie, ciascuna con 100 miliardi di stelle o giù di lì, avesse energia nulla, no? Perché è energia nulla? Perché l'energia della massa energia, cioè delle stelle, delle polveri, del gas, dell'idrogeno, è positiva ed è enorme, è gigantesca, ma lo spazio-tempo è un altro elemento materiale, si dimentica sempre, non è il vuoto, è spazio-tempo. E lo spazio-tempo incurvato contiene energia, l'energia di attrazione gravitazionale, è come se fosse una spugna impregnata di energia, è di un'energia negativa, tutto si attrae con tutto, lo spazio-tempo è intriso di energia negativa e quindi è come se ci fosse un'energia positiva distribuita nelle stelle in una spugna piena di energia negativa e quando fai il conto e sommi queste due componenti tac, viene zero. Vedete, si rimane a bocca aperta. Perché viene zero? Perché lo spazio-tempo, la massa-energia, l'universo attuale, è uno stato di vuoto. C'ha energia nulla, momento angolare nullo, carica nulla, sono le proprietà dello stato di vuoto. Vedete, si è scoperto così da dove viene l'universo, viene dal vuoto. E non c'è stato bisogno di energia per produrre un universo, è nato da solo. È una trasformazione spontanea del vuoto. Il nostro universo, noi, dentro questo universo, siamo ancora uno stato di vuoto, facciamo parte di uno stato di vuoto. Vedete, quell'idea di cercare una struttura materiale persistente, solida, vedete come svanisce, diventa un'illusione. L'intero universo materiale che ti sembra così solido, materiale, fatto di oggetti persistenti, in realtà è un intero, complesso stato di vuoto. Ma come se questo non bastasse, in questo universo materiale, la materia che noi conosciamo è una minima parte della componente materiale complessiva. Questa è un'altra delle sorprese che è venuta fuori negli ultimi trent'anni. Una parte di questa materia, noi siamo in grado di descriverla. Con i moderni atomi, le particelle elementari e le forze che portano le interazioni, noi siamo in grado di descrivere questo tendone, il pianeta Terra, la Luna, le stelle, le polveri, benissimo. Ma a quanto corrisponde tutto questo in termini di materia globale dell'universo? 5%. Eccoci qua. Io, scienziato moderno, posso dire a un bambino che mi chiede cos'è questo universo materiale, gli dico io sono in grado di raccontare di cos'è fatto il 5%. Il 95% è completamente sconosciuto. Molto imbarazzante. Forme di materia sconosciuta circondano la materia che noi consideriamo ordinaria e sono il 95% della materia totale dell'universo, della massa totale dell'universo. Questa materia è la materia oscura che tiene insieme le galassie, non sappiamo di cosa è fatta, è circa un quarto dell'universo. Tac, ne ho preso un po', ho preso delle particelle di materia oscura che sono qui fra noi, ma non so di cosa sono fatte, nessuno scienziato è in grado di dire di cosa sono fatte. E poi c'è questa espansione accelerata dell'universo scoperta negli ultimi 30 anni, qualcosa che spinge tutto lontano da tutto, che è tradotta in energia, chiamiamo energia oscura, qualcosa che sta spingendo a un'espansione accelerata dell'universo che sembra non aver fine e che è una spinta tenue sul piano microscopico, enorme sul piano macroscopico, che tradotta in energia, comporta due terzi della massa dell'universo. Quindi vedete, la materia così come noi la consideriamo, tiene conto solo di quella frazione quasi trascurabile della massa dell'universo. Come se questo non bastasse, quella parte di materia che siamo in grado di spiegare come si comporta. Ecco, qui si va ancora nell'incognito, cioè se io ora dico va bene, ma io ora mi limito a quel 5% che capisco, mi limito a questa bottiglia o alla luna, io di quella materia sono in grado di spiegare tutto. Sì, siamo in grado di spiegare parecchie cose, è vero. Ma guardiamo un attimo bene esattamente come si comporta quella materia e vedrete che lì dobbiamo abbandonare, anche lì, anche nella materia conosciuta, quel pregiudizio di componenti elementari stabili, persistenti, eterni, che comunque ci rimane, no? Vedete, rimane sempre un po' dentro di noi questo. Sì, hanno scoperto i quark, hanno scoperto i leptoni e sono gli atomi moderni. Non è così, no? Perché gli atomi avevano questa caratteristica di essere oggetti eterni ed immutabili. Andiamo a vedere dentro un protone che costituisce, diciamo, il nucleo di questi atomi di idrogeno che insieme all'ossigeno fanno questa bottiglia d'acqua, no? E se guardiamo dentro questo protone, noi non vediamo tre palline stabili, ferme e tranquille, no? Vediamo stati della materia cangianti in moto furibondo che scambiano gluoni fra di loro, che attraversano tutti i possibili stati della meccanica quantistica. Cioè la materia sul piano microscopico è tutt'altro che stabile, ferma, no? Un elettrone o un quark, se guardiamo da vicino, no? Non è mai uguale a se stesso, no? È circondato di particelle virtuali, attraversa stati di eccitazione, tutti gli stati che sono permessi vengono attraversati nel corso dell'esistenza. Particelle di materia diventano particelle di antimateria e viceversa nel corso delle loro fluttuazioni continue. Quindi bisogna abbandonare anche per la materia ordinaria, quella che conosciamo, quella descritta dal modello standard, quest'idea di componenti stabili e persistenti. Quella materia lì è evanescente, cambia continuamente, fluttuo continuamente, non è mai in uno stato stazionario, no? E probabilmente al di sotto di quella materia c'è uno strato ancora che non abbiamo capito. Probabilmente ci sono componenti ancora più elementari, che avranno un comportamento ancora più bizzarro. E quindi arrivo alla conclusione, quando ho intitolato il libro La Magnifica Illusione intendevo questo, no? Che nel momento in cui abbiamo scoperto le radici della materia, di quella materia primordiale che costituisce tutto, compreso noi, in quello stesso momento ci siamo resi conto di dover abbandonare per sempre l'illusione di aver trovato una base solida e persistente del mondo materiale che viviamo e di cui noi facciamo parte. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie ancora. Grazie ancora.